Poi Maria dice, volevo farvi un'altra domanda. Quando avevo 18 anni, prima di conoscere il Signore Gesù Cristo, mi sono fatta fare due tatuaggi. Un giorno me ne vantavo, ora me ne vergogno. Mi sento sporca davanti al Signore. Anche quando ora, tipo che è estate, e vorrei mettermi la gonna lunga per andare in chiesa, mi metto il fondotinta. Ora non ho grandi possibilità economiche per farmele togliere con il laser, perché essendomi informata costa parecchio. So che è una questione personale, però volevo sapere cosa ne pensa lei. Grazie per le risposte e un abbraccio, Maria. Grazie a lei mi fa sentire importante. Guarda, se diamo del tuo a Dio, secondo me, anche tra di noi, dammi pure del tuo, se ti fa piacere, se no va bene. Allora, primo corinzi 6 c'è una scrittura, che che c'è? Poi secondo corinzi 5 c'è un'altra. Primo corinzi 6? Vai all'undici. L'undici. Ortali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Ok, questa si sente vergognosa perché è il diavolo che la vorrà sentire in condanna. In realtà lei è lavata, purificata, pulita. Dio non guarda più i suoi tatuaggi, guarda il suo cuore. Amen. Secondo corinzi 5,17. 5,17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ok, la legge dice, nel Vecchio Testamento, di non farsi tatuare, però tu ti sei fatta tatuare quando tu non capivi niente. Sì. Anzi era un vanto. Hai visto che tatuaggi? Sì, sì, sì. Adesso invece ti rendi conto. Però se qualche fratello ti fa sentire sporca, vergognosa, digli, guarda, Gesù Cristo mi ha pulito, mi ha purificato. Il Nuovo Testamento dimostra che Paolo parla della sua testimonianza, che lui andava in giro a uccidere i cristiani, torturarli, eccetera. Però dice, l'ho fatto nella mia ignoranza. E Paolo è uno dei più grandi, uno dei più grandi apostoli. Sto pensando che, Maria, tu puoi usare questi tatuaggi come testimonianza, quando uno ti chiede, ma perché hai quei tatuaggi? Tu, è un'opportunità di cominciare la conversazione sulla tua testimonianza e portarli a Gesù. Certo, dice, perché ero così, ero del mondo e credevo che gli uomini mi guardavano perché ero al tatuaggio. Capito? I maschi svenivano alla vista del tatuaggio. Devo avere quella donna, c'è il tatuaggio. Poi ho capito che era un'imbecillità quando ricevo di Gesù Cristo. Io così ho cominciato a fumare, avevo 17 anni, ho fumato fino a 21 anni, perché per una ragazza. Per una ragazza? Una ragazza. Stavo corteggiando questa ragazza e mi fa, questa ragazza mi fa, io non avevo nessuna intenzione di fumare, mi fa, c'è una sigaretta? E gli ho detto, no, non fumo. E mi ha guardato come, uff, che stupido. E lui ha detto, oh, ho perso una fidanzata perché non fumo, adesso comincio a fumare e così la prossima ragazza non la perdo. Ha funzionato? Niente. Niente. Ha funzionato solo il problema ai polmoni. Io facevo molto sport a 21 anni, 22 anni, 21-22 anni, mi sono sentito così stupido che mi sono andato ad affare finché ho spesso di fumare a 22 anni. Grazie al Signore. E c'è polmoni ancora buoni. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Quindi fratelli che, sorelle che, giovani, figlioli e figliole che fumate così che trovate una fidanzata, sono cretinagini. È vero. Una fidanzata che viene con voi perché fumate e tutto fuma, niente a posto. Amen. Va bene. È vero. Uno che viene con voi perché c'è un tatuaggio, perché fumi o perché fuma marijuana, guarda, va bene. È come queste ragazze che vanno in discoteca con tacchi alti, scollate. Se trovi un uomo che viene con te perché sei tutto sexy, hai trovato l'uomo sbagliato. Seguro. Una donna alta, vuol dire che l'uomo è sbagliato, o viceversa. Voi fratelli che camminate come gorilla, maccio, ha visto il muscolo, eccetera. Una donna che viene con te perché c'è i muscoli, è meglio perderla che trovarla. Trovare una donna che è innamorata del tuo cuore, del tuo animo, del tuo spirito. E quando vi sposate, non andate a cercare la moglie super e il marito Schwarzenegger. Uno che vi sposa per quelle qualità lì è meglio perderla che trovarla. Ieri sera stavo evangelizzando un uomo, così erano le 11 di sera, le 10 di sera, tardi, siamo andati da questo qui, dall'alfalfa. Ah, sì, sì. E' andato lì, per pieno degli animali, siamo andati. E lo stavo evangelizzando, questo è uno che gioca a rugby, tutto muscoli. Come un armadio. Un tipo, altro che è Schwarzenegger. Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger, Schwarzenegger. 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 E allora, super muscolo, super tutto. E quello è appena divorziato. Sì. Appena divorziato, ha perso il figlio di 7 anni, il cuore spezzato. Un giovane avrà 30 anni. 35 anni. 35 anni. Sì. E ci stava insegnando tutti i trucchi come crescere, foraggi per gli animali, come questo, quella. mi ha spezzato. E mi ha spezzato il cuore. È una persona dolcissima che ci aiuta, è un amico. Però, tutti i suoi muscoli, gioca a rugby, fa sollevamento pesi, è un grande atleta, fa tante altre cose. Eppure, fratelli, quello che conta è l'amore di Gesù. Amen. Va bene. Andiamo avanti con un nuovo fratello, Riccardo, che ci ha scritto. Riccardo ha solamente 18 anni. Riccardo. 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 Grazie a tutti.